Musica Buongiorno ragazzi sono Gioe in compagnia di un ospite speciale, le uova No non è vero, a parte le uova oggi ci sono i cugini del tubo, salate Ciao ragazzi Che se chi l'ha già visto lui era nel FAQ numero 10 Che non lascerò il link in descrizione perché non mi dimenticherò di sicuro Ok ragazzi metto un attimo in pausa velocemente il video Vi prego di lasciare subito adesso un like Che ne chiedo almeno 500 per il prossimo, per la prossima challenge così Che veramente ci siamo fatti la doccia di uova tipo Giuseppe e Salve Ragazzi già adesso bel like e con il like continuerò il video, bella Questa è la roulette russa delle uova challenge e in cosa consiste? Qua abbiamo 12 uova e in pratica 9 di queste uova oppure 8 non mi ricordo No 8, fai prima di dire che 4? Ok 8 di queste uova sono state bollite mentre 4 sono crude Ovviamente le abbiamo poi messe in una bacinella con un'acqua a temperatura ambiente Quindi anche toccandole non distinguerebbe quale sono quelle crude e quelle bollite Quindi cosa consiste? Allora loro due giocano, cioè non è che una volta, cioè una volta lui si tira un uovo in testa Una volta tira lui, una volta lui, una volta lui Perché loro giocano come il canale cugine del tubo Quindi non sono due persone, è una persona, un soggetto diciamo Mentre io ogni volta devo prendermi le uovi In pratica consiste, noi scegliamo un uovo a caso senza toccarlo, non si può toccare Una volta che l'abbiamo scelto usiamo quello e ce lo spacchiamo in testa Se è bollito non succede niente, cioè ci facciamo solo un pochino male Se invece è crudo è un problema Perché il cavo è piccolo È un problemino perché tipo ci cade tutto l'uovo addosso L'uovo fatto nelle fuck numero 2 Quelle lasceremo in descrizione perché sono carine E nulla, incominciamo subito col primo uovo Chi comincia dei due? Andre Porca, no, 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 no Vai Andre Ok, questo Appoggia uno Cioè, prendi uno Che sfiga, questo Io quello non lo vedo manca Ma io mi sposto, figa Ma questo Questo è qualcosa Oh cazzo No, anche il mio Porca Andre 3, 2, 1, via No Oddio, aspetta No, no Dai, lo butto nell'avanti Aspetta, lo butto per dentro Dai, lo butto Ah, Dio Che sfiga Tutte e due Mamma mia Che schifo Oddio, regami Che volito Regami Che volito Qua, qua, qua No, no, no Mamma mia Dio, non c'ha faccia Cioè, noi già due le andiamo spuzonate così Che schifo Quindi ne mancano solo due Quindi siamo, ragazzi Il punteggio è 1 a 1 Oddio, che schifo sentito Il punteggio è stile Dai, faccio faccio uno, uno shampoo No, io non lo tocco Mamma mia No, io tipo Jen Minchia Com'è? È brutta Posso lavarmi? No No Ancora No, no, ti va di culo, cazzo Ce ne sono solo due No, ti va di culo, cazzo Ce ne sono solo due Ce ne sono solo due Cazzo, tocca ancora meglio Adesso Questo Che sfiga però, cazzo Al primo colpo Mattia Ma forte, devo farlo Comincia fortissimo E quindi ti fa male No, non ti fa male Vai, Ande 3 2 1 Robino No 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 Ma tantissimo Lo spazzo Lo spaccava Ma lei bollite le uova Sì Dammi Oddio Ma 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 quello Ma non so che ha Ma le bollite di merda Le bollite un po' C'è giù che non sa bollire le uova C'è giù che non bolle Oh, oh Il tuo era bello sano Cioè il mio era Ma anche il mio era mezzo lungo Ah ma raga Mi hanno morito le uova benissimo Mi sa Guardate Non è tanto Quanto le tue Adesso basta vedere Ne fate altre due voi E se ve la bacca Minchia Mi sta colando tutto Oddio No, no Non mi sa Vattene la faccia Vattene la faccia Oddio Che scherzo Sono schizzinoso Oddio Ma mi sa che non le ho morite benissimo Raga, ora l'ultima cosa Se vedo che Se ci rompono ancora tante uova In da seconda Perché non le ho bollite bene Questa Non sarà la challenge Le roulette Ma sì Sarà la challenge Le roulette Però Uscita male Uscita male Vai Scegli Scegli Questa Ormai Mi spiace Ok raga L'avevo bollite male Mi son fatto malissimo Questa è bollita bene raga Questa È bollita Ma al centro non è bollito Che merda Capito Ok la challenge Finisci qua No Adesso la finiamo Eh Come la finiamo Le finiamo tutte Ok ragazzi Deviniamo tutte No no Sono tre Tieni mano Dai Tieni altre Perfetto E tieni già Tre Due Ah ok Uno Due Uno Via Ciao Ha schizzato Ma questa Cioè tipo guarda Ah questa qua Era bollita Infatti non mi si è spezzata Però dentro Eh ma butta dentro Ti ho voglia Stavo facendo una torta Ma tre tre Ma ce l'abbiamo E finisce il finito Dai Ciao proprio Tre Due Uno Via Oh vai tu Oh Oddio Che schifo Ma non che schifo Ragazzi questo è durissimo Mi sono fatto male io È duro come il sasso La mia no Via Oh vai tu Oh Oddio Che schifo Ma non che schifo Asciugati un po' i capelli Che facciamo la cosa Nel video Ma Romano Senti quello che Hai fatto più capelli Io vi odio Io vi odio Io mi disescrivo Che cazzo capelli Allora ragazzi 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 Questa è una challenge Abbastanza ambivalesca Abbiamo capito che Facciamo ridere In tre Però No va bene Però gioia È coglione Non sa cocere Le uova Bellissimo Ok abbiamo capito Che abbiamo Un futuro da youtuber Ma non un futuro Da share Sicuro Tu non è un futuro Da share Comunque ragazzi Oggi Mentre voi state vedendo In questo video È uscito un altro video Sul loro canale Che io purtroppo Cioè ringraziando al signore Non sono anche sul loro video Sull'altro canale E avete fatto La Blindful Challenge La vista La prima è stupenda Adesso in descrizione Comunque troverete il link Oppure anche Sovrimpressione Andatela a vedere Assolutamente E nulla Ricordatevi assolutamente Di iscrivervi al loro canale Perché è una cosa fondamentale Lasciate almeno 500 like Per sta cazzo di uova In testa E quante uova erano? 12, tutte 12 Si sono rotte Figa Cadroio Tutte erano mia cazzo di testa Vabbè Ragazzi Da Gio è tutto Salutate ragazzi Ciao ragazzi Scrivetevi al cugino del tubo Vedete anche l'ultimo video No ho sbagliato Non pensavo Non pensavo che si smesso